Mobilità, logistica, intermodalità, possibilità di spostamenti in maniera agevole e veloce, per i mezzi e per le persone. In una sola parola, sviluppo. Il Consorzio per lo sviluppo industriale di Frosinone realizzerà il prolungamento della via Morolense e farà un collegamento fino allo svincolo del casello autostradale di Ferentino e, in un prossimo futuro, alla nuova fermata del treno ad alta velocità. Ma la cosa più importante è che quei lavori verranno realizzati con dei soldi che erano stati dimenticati al Ministero per le Infrastrutture dal 1987 che il presidente Asi, Francesco De Angelis, è riuscito a farsi assegnare dopo un anno di battaglia burocratica. Sono 6 milioni e 600 mila euro per il nuovo asse attrezzato, parallelo a quello di Frosinone, sulla Morolense ed è un'opera importante strategica perché si collega con il casello di Ferentino, si collega con la nuova stazione TAB alta velocità e quindi rafforza il progetto dell'alta velocità e poi soprattutto è un collegamento strategico per il Basso Lazio, la provincia di Frosinone e la provincia di Latina. Prevediamo due rotatorie, una in testa e una in coda. Quella in coda prevediamo anche una superficie per l'elisoccorso e quindi anche una risposta alla domanda di salute dei cittadini e credo che insomma è un risultato davvero straordinario per le imprese, per il territorio. In pratica nascerà un nuovo asse attrezzato, parallelo a quello già esistente, fondamentale per lo sviluppo delle imprese e del territorio in genere. È prevista una rotatoria in territorio di Ferentino ed un'area di elisoccorso. Quella di oggi è una bellissima notizia, soprattutto in questo momento difficile per l'intero paese, avere risorse che ci permettono di realizzare altre infrastrutture in una parte del territorio che è cresciuta molto nel corso degli anni. Basti ricordare la realizzazione del casellato stradale, della superstrada, la riqualificazione della stazione, la realizzanda fermata della TAB. Insomma siamo sulla buona strada. Il finanziamento è di oltre 6 milioni e mezzo di euro, fondi dell'ex Agen Sud stanziati 34 anni fa e per cui c'era il rischio che andassero perduti, ma sono stati recuperati grazie ad un lavoro incessante finalmente giunto a compimento e che porterà dei benefici per l'intera provincia. Recuperare risorse, soprattutto quando quelle risorse rischiavano di andare perdute, vuol dire avere progettualità pronta e capacità amministrativa. E su questo Francesco De Angelis non è nuovo a operazioni di questo genere e soprattutto il lavoro istituzionale che è stato fatto tra il Consorzio e la Regione davvero porta un premio importante a questo territorio.